Il santuario della Madonna di Sayano sorge su di uno sperone di roccia alto circa 260 metri, sul margine sinistro del fiume Marecchia, in posizione strategica fra Montebello. Pietracuta, Verucchio e San Marino. Il suo nome ci porta agli antichi romani, che lo chiamavano Saxon Gianni, Sassodigiano, e probabilmente doveva esserci un tempio pagano a lui dedicato. Sayano, anticamente, apparteneva al territorio e parrocchia di Pietracuta, diocesi da Montefeltro, poi passò alla parrocchia di San Pietro di Montebello. Il suo nome compare frequentemente tra le liste dei castelli che passavano dall'uno all'altro signore. La presenza del castello di Sayano è accertata in un documento del 1188. Il Clementini, inoltre, nel terzo volume della storia riminese, dice che nel 1370 lo possedeva Galeotto Malatesta, il quale riteneva un castello con sei paghe uguali di 15 fiorini al mese, e conteneva dieci focolari, con la torre cilindrica, luogo strategico di avvistamento e di segnalazione, visto che questa permetteva una triangolazione visiva tra Verucchio, Sayano, Montebello e San Marino. Ma la parte più importante del complesso è la chiesa, oggi meta di pellegrinaggi e tenuta da Don Osvaldo Caldari. Sono 14 anni che sono qui, il Vescovo mi ha chiesto nel 2004 di venire in questo posto, soprattutto per garantire una presenza di preghiera e di accoglienza per i pellegrini, le persone che vengono a visitare il santuario, cioè è attestato che era un luogo di culto già dal 1300 e questo è documentato, quindi diciamo questa è una testimonianza molto interessante. C'è stato un arresto dal 1973 al 1996, perché in seguito a dati di profanazione e di vandalismo il santuario è stato chiuso e quindi abbandonato. Dopodiché è stato ripreso ed è continuata questa tradizione che nella Valmarecchia non è mai stata abbandonata. Oggi vengono pellegrini non in gruppo e direi grazie a Dio, proprio perché il posto non è accessibile dai pullman, vengono pellegrini singolarmente a pregare, ad affidarsi alla Madonna e eventualmente anche a chiedere la disponibilità di un colloquio, di una confessione. Un punto importante che in qualche modo ha fatto da tridunione, da elemento di unione in tutti questi secoli di devozione mariana è anche il cosiddetto sedire dalla Madonna, uno scranno incavato dalla pietra nel quale la gente veniva a sedersi per chiedere una grazia alla Madonna ed è soprattutto famosa per le grazie legate alla maternità. Quindi ancora oggi molte coppie vengono a chiedere la grazia sia di poter diventare genitori, padre, madre, né sia anche la custodia, insomma la protezione nella maternità in corso. Una cosa che mi piace dire, raccontare, è legata a questo messale che è stato restituito da una famiglia che l'aveva preso, portato via da qui insieme ad altri oggetti proprio nel momento in cui il santuario era stato abbandonato, quindi dal 73 al 96, periodo nel quale sono state portate via quasi tutte le cose di rilievo presenti nel santuario, di ex voto, un bellissimo basso rilievo e altro materiale prezioso, importante, insomma che testimoniava anche l'antichità del luogo, compreso il fregio che era nella torre datato insomma all'incirca risalente all'ottavo secolo. È un vecchio messale del 1735 ma utilizzato in tutto, insomma anche nel novecento e appunto da questo periodo risale questo appunto, questo è il messale, questo è il messale, ecco, c'è un appunto, vedo così, c'è una copertina, è datato 18 maggio 1916. Qui a Saiano giornata eucaristica, comunioni 1300, concorso di popolo 5000 persone, te deum laudamus, ecco, ti ringraziamo signore. Ecco, è una testimonianza molto interessante perché ci dice l'importanza che aveva il santuario proprio agli edizio del novecento e l'ha avuto appunto per secoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.